Ciao a tutti da Al Salvatore, grandissima sorpresa, eccoci qui all'Osi Parche per una melodia, per la sicurezza, un saluto, eccoci qui il cuore che batte, Gianluca Guerrisi, poi abbiamo, Nadia, Flavio, Alberto, Alberto Naggi, poi, Umberto, ed ecco qui poi, Fausto, Zilli, eccolo, Pedro, Antonio, Roberto Frenzi, ecco qui poi, Vinci, e poi abbiamo, Flavio, anche il comandante di Terni, ecco qui, è scappato, ma noi lo prendiamo, ecco, il motociclista, lo storico motociclista, e abbiamo qui, anche Terni si avvicina, abbiamo anche Guglielmo Fransca, ci raggiungi, Guglielmo, vieni, ecco qui, sta, Terni, abbiamo pure Terni del Cosint, ecco qui, Guglielmo, è presente, buonasera, siamo in diretta, Terni, Terni, Cristian, Terni Cristian, e allora che possiamo dire, noi da qui con il DJ Chico, eccolo lì, e tutti i fotografi, i giornalisti, e abbiamo anche Bibi Cisbondi, eccolo lì, e noi dal freddo, quanti gradi siamo? 3, 4 gradi, 4 gradi, ma siamo qui per una melodia, e mandiamo, per la sicurezza, auguri di buon Natale, e buon Natale a tutti, ciao! Ciao! Ma è solto, ma è solto!